Spesso non c'è un solo figlio, ci sono quindi altri figli normotipici come si usa a dire e quindi cambiando questi equilibri, queste dinamiche spesso si cercano anche soluzioni autogestite quello che abbiamo fatto molti di noi e spesso non ci azzecchiamo. La diagnosi di disturbo dello spettro autistico di un figlio rischia inevitabilmente di sconvolgere l'equilibrio e i rapporti all'interno di una famiglia. Per i genitori però esiste la possibilità di poter imparare come affrontare questa situazione. Di questo delicato tema si è parlato nel convegno le dinamiche della coppia nelle famiglie con autismo nella sede di Confcommercio ad Arezzo. È vero che noi facciamo sempre un po' di autoaiuto nell'associazione, cerchiamo di scambiarsi esperienze fra genitori però è indubbio che questo tassello della famiglia, quindi della parte genitoriale, spesso viene un po' sottovalutato concentrandosi tutti dalle istituzioni alle aziende sanitarie molto sul paziente, chiamiamolo così, sul bambino scordandosi invece sia dei genitori sia dei fratelli che spesso subiscono comunque delle ripercussioni abbastanza significative. Per cui noi siamo contentissimi che Confcommercio abbia aperto questo percorso e abbia buttato là questa idea perché noi da una parte sono anche curioso di sentire quello che avviene, le dinamiche e avere dei consigli da chi ne sa più di noi dall'altro potrebbe essere veramente interessante, qui magari lo dirò anche oggi, aprire proprio un percorso in prospettiva dandosi una tempissima, una cadenza in cui poter coinvolgere più genitori possibili, famiglie possibili che effettivamente è il tassello attualmente più debole dell'intera catena, questo è indubbio. L'incontro è stato fortemente voluto dal gruppo psicologi della Confcommercio insieme all'associazione Autismo Arezzo che in occasione del Mese Blu dell'Autismo hanno voluto dedicare uno spazio ai genitori con figli autistici per condividere e affrontare con loro le difficoltà in termini familiari che derivano da questo disturbo. La psicologia può aiutare le famiglie? Direi proprio di sì, è una disciplina indispensabile riconosciuta ad oggi come una scienza e quindi sicuramente sapere qual è la giusta comunicazione, qual è la giusta relazione ma anche quali sono le linee guida a livello nazionale e internazionale per aiutare e sostenere lo sviluppo di un ragazzo con delle disabilità perché di questo si parla, è sicuramente un aiuto che le persone devono conoscere. Colpisce l'aumento dei casi, c'è una spiegazione? Beh, la spiegazione è sotto gli occhi di tutti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, The Lancet hanno lanciato un allarme piuttosto importante, abbiamo immesso nella biosfera tutta una serie di sostanze, cosiddette interferenti endocrini, endocrini, bisfenolo di tipo A che è un policarbonato che è in tutte le materie plastiche sostanzialmente e molti altri agenti inquinanti che vanno a sprogrammare sostanzialmente il genoma modificando l'espressione genetica dell'hardware del soggetto. Bisogna implementare un sistema sanitario adeguato per questo tipo di disturbi che saranno sempre più numerosi, non lo dico io, lo dicono le statistiche.